Di recente ho scoperto NixOS, una distribuzione Linux molto particolare, in quanto ha dalle caratteristiche uniche che la distinguono dalle altre distribuzioni Linux. In particolare c'è una caratteristica di NixOS che ho trovato interessante. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Dal sito vediamo che NixOS è pubblicizzato come una distribuzione che permette build e deployment riproducibili e gestione del sistema in maniera dichiarativa utilizzando un linguaggio di programmazione puramente funzionale. Ma di tutto questo a me non me ne può fregare di meno. La parte veramente interessante di NixOS è che ha un package manager che funziona in maniera totalmente differente da qualunque altro package manager per Linux. Se ti ricordi dal video dove esploravamo il file system di Linux, esiste uno standard chiamato FHS che il package manager di NixOS bellamente ignora. In NixOS tutti i pacchetti vengono installati in sottodirectori di slashnix e poi vengono fatti dei simlink agli eseguibili e quant'altro in una sottodirectori della tua home. Questo modo di operare ha un side effect molto interessante. Puoi utilizzare il package manager di NixOS su qualunque distribuzione Linux, senza che i pacchetti di NixOS vadano in conflitto con quelli installati di sistema. E la cosa molto bella è che NixOS ha nel suo repository tantissimi pacchetti, molti dei quali non sono pacchettizzati dalle distribuzioni principali. Quindi possiamo considerare Nix un metodo di installazione del software complementare a Snap, Flatpak e AppImage, di cui tra l'altro ho parlato in un video precedente. Se non l'hai visto te lo consiglio vivamente. Andiamo a provarlo. Basta fare copia e incolla di questo comando e il package manager Nix viene installato in modalità singolo utente. Esiste anche una modalità multiutente, ma visto che questo computer lo uso solo io, singolo utente, va benissimo. E ci manca il pacchetto curl. Nessun problema, basta installarlo con apt come qualsiasi altro pacchetto. Ok, riproviamo ad installare Nix. E vedi che ora è andato tutto a buon fine. Ora che ha finito l'installazione, nota che ha modificato il file .profile e ora ci dice o di slogarci e rilogarci, oppure di digitare quel comando per avere le variabili di ambiente settate. Qui devo aprire una piccola parentesi. Visto che Nix sette le variabili d'ambiente nel file .profile, questo significa che funziona solo su shell compatibili POSIX, tipo bash o zsh. Visto che io sono un fan della shellfish, di cui magari parleremo in un video parte, se usi phish, hai bisogno di uno scritto esterno da includere al posto di quello installato con Nix. Come sempre, trovi il link a questo scritto in descrizione. Ma torniamo a noi, e facciamo copia in colla del comando che ci dice di dare. Ok, ora se torniamo sul sito di NixOS, vedi che ci manda la parte quick start del manuale, che ci dà le informazioni basilari su come usare Nix. Nix.env-i per installare un pacchetto, Nix.env-i per installare un pacchetto, e così via. Bene, proviamo ad installare un pacchetto che sicuramente non esiste in Ubuntu, l'emulatore PCM. Intanto vediamo come si chiama il pacchetto, andando a cercare PCM tra i pacchetti disponibili. E vedi che si chiama PCM trattino 17. Ok, installiamolo col comando Nix.env-i. Finita l'installazione, giusto per curiosità, vediamo dove si trova l'eseguibile di PCM. E vedi che si trova nella mia home, in un assato directory di .nix profile. Benissimo, proviamo ad eseguire PCM. Vedi che funziona, ma dà errore perché non trova le ROM di cui ho bisogno. Ora, io non posso dirti di andare a cercare PCM ROM sul tuo motore di ricerca preferito, scaricare lo zip contenente le ROM ed estrarlo nella directory .pcm-roms, perché quelle ROM sono coperte da copyright e via le resti dei diritti d'autore su dei pezzi di software che sono fuori produzione da 30-40 anni. Però, se lo fai lo stesso, nonostante ti abbia detto di non farlo, vedi che ora PCM parte senza problemi, e puoi creare una nuova macchina virtuale di prova con, per esempio, un olive tm24. Ok, ora si lamenta che non trovo un renderer appropriato, ma basta forzare il renderer libera software per far funzionare il tutto. Come vedi, ora funziona. Il fatto che la macchina virtuale con il m24 non faccia il boot non è un problema adesso. Questo è un video per mostrarti come funziona il package manager Nix, non un tutorial per come usare PCM. Ok, spegniamo la nostra macchina virtuale e andiamo a curiosare la struttura delle directory utilizzate da Nix, usando il nostro bel file manager R&R. Se andiamo a filtrare la parola Nix nella nostra home, vedi che abbiamo due directory e un file, ma quello che ci interessa maggiormente è la directory .nixprofile, che tra l'altro è un simlink alla sotto ai directory di Nix. Se andiamo a vedere all'interno della directory bin, vediamo che tutti i file non sono altro che dei simlink a dei file contenuti in .nix.store. Spostiamoci sull'altro pannello per vedere come è fatta la directory .nix.store. Vedi che contiene tante directory che cominciano con dei caratteri che sembrano a caso, ma in realtà sono un hash univoco della build del pacchetto, seguito dal nome del pacchetto stesso. Curiosiamo all'interno delle directory Gzip, per esempio, e vediamo che al suo interno ci sono tutti gli eseguibili di Gzip. Questa particolare struttura di directory unita ai simlink alla tua home, come abbiamo appena visto, è il motivo per cui i pacchetti Nix non vanno in conflitto con quelli installati dal package manager della tua distribuzione. Se alla fine mi rendo conto che i pacchetti Nix non fanno per me e voglio disinstallare tutto il sistema Nix, basta semplicemente cancellare la directory .nix e cancellare i tre elementi nella mia home. Non è vero. C'è bisogno anche di togliere il riferimento Nix nel nostro file .profile, ti ricordi che è stato modificato in fase di installazione? Concludendo, Nix in quanto package manager complementare a quello del suo tuo sistema operativo può essere utile per installare pacchetti che non trovi nella tua distribuzione. A dire il vero, con Snap, Flatpak e AppImage, nella maggior parte dei casi, ottieni gli stessi risultati con una maggiore integrazione nel desktop e senza bisogno di settare variabili di ambiente strane. Uno dei pochi campi di applicazioni di Nix, per il momento non coperti da Snap, Flatpak, AppImage, è quello dei plugin audio. Quindi, se c'è un plugin audio che non è pacchettizzato per la tua distribuzione, potresti trovarlo nei repositori di Nix e poi, di certo software audio, di cercare i plugin nella sottodirectoria di .nix profile. Sto parlando qui a livello puramente teorico, perché tutti i plugin audio che uso li trovo facilmente già nei repositori delle distribuzioni principali. Per quanto riguarda il sistema operativo NixOS, invece, me ne terrei ben alla larga, perché tutti i vantaggi di cui favoleggiano nella home page sono controbilanciati da una complessità gigantesca. Poi mi domando, ma i maintainer delle varie distribuzioni non sono mica tutti cretini? E se i vantaggi tanto pubblicizzati nella home page di NixOS fossero veramente così importanti come dicono, non pensi che anche le altre distribuzioni avrebbero iniziato ad implementare i concetti di Nix per la loro distribuzione? Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Quindi, se c'è un plugin audio che non è pacchettizzato per tutti i... Ahem!